La DIA di Palermo ha arrestato Mauro Lauricella, 33 anni, figlio del mafioso Antonino e Gioacchino Alioto, 62 anni, mafioso, accusati di estorsione aggravata nell'ambito dell'inchiesta in cui per lo stesso reato è indagato il calciatore del Lecce, ex bomber del Palermo, Fabrizio Miccoli. Il giocatore avrebbe incaricato Mauro Lauricella di recuperare alcuni crediti per conto di un ex fisioterapista del Palermo Calcio. Era stato condannato in primo grado dal GUP Carlo Cazzella perché è responsabile del lancio di un fumogene in occasione della partita tra Lecce e Cagliari nel 2011. Oggi l'uomo a un 42enne di Merpignano è stato assolto perché il fatto è stato ritenuto non punibile. Ubriaco e seminudo sulla tangenziale est, è stato bloccato dalla polizia un giovane marocchino che girovagava per strada attirando l'attenzione degli automobilisti. Sono stati infatti proprio questi ultimi a segnalare la sua presenza mentre barcollava da un punto all'altro nei pressi dello svincolo che conduce Alfazzi. Immediato l'intervento della volante che ha fatto giungere sul posto anche il 118. Il marocchino era brillo e per giunta aveva con sé un permesso di soggiorno scaduto. Per lui, personaggio già noto alle forze dell'ordine visto che un mese fa è stato fermato per un simile episodio, è scattata la denuncia. Distrutta dal fuoco la Toyota di un 41enne di Giugianello, l'auto è stata incendiata nella serata di domenica in piazza Dante Alighieri. Sono stati i vigili del fuoco a spegnere il rogo, molto probabilmente di origine dolosa. I carabinieri intervenuti hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile.